Questo qui dovrebbe venire su... Non andava lo shift! Bella a tutti burloni, sono Marci e benvenuti in questo nuovo Skywars, ragazzi, oggi voglio una marea di mi piace, oggi voglio un botto di mi piace, non so perché, ve lo chiederò con la Coca Cola, quindi lasciate mi piace, sì, grandi bordello, bordello. Ragazzi, oltre a dirvi che gli Skywars sono la serie che vi piace praticamente di più perché c'è molta interazione per quanto riguarda domande e risposte che vi faccio io e che rispondete voi, oggi vorrei chiedervi come sta andando la fine del quadrimestre barra trimestre se siete nella riforma. Quindi non denoghiamoci troppo e entriamo nella prima partita. Come avete notato ragazzi sto usando una texture pack che è appunto quella di Tearless Raptor che ha fatto per la UHC, lo ringrazio per avermela fatto usare e ragazzi è bellissima. Altra cosa che devo dirvi è che ho la voce veramente giù, quindi ho fatto già fatica a chiedervi una domanda e ogni tanto potrei tossire o comunque potrei avere una voce un pochino... Quindi cerchiamo di finire la partita in fretta senza dilungarci troppissimo, quindi bordello. Ok, qui abbiamo un botto di roba, non mi ricordo se qua c'era tipo la fornace con la cosa cososo, era qua? Sì che era qua, ok. Allora, come ce la giochiamo? Come ce la giochiamo? Perché qui non abbiamo altamente niente, a meno che ci sia uno chest qua sopra, io non mi ricordo mai. Sì, potremmo andare di qua, potremmo andare di qui ma noi facciamo finta di non aver niente, quindi facciamo così, tanto questo se vi butta la roba non dovrei cadere. Ok, questo non ci ha visti, quindi noi in teoria potremmo non cadere, ok? Se morirò ragazzi questa partita giuro che la carico. Dove è andato il bomber? No regà, ma che cacchio... Ah, è morto, credo sia morto a sto punto. No, questo è ripreso, a meno che sia sceso... Lella. È morto? Così a caso? Ha usato una enderpearl, non me ne sono accorto? Ok. Ok, va bene. Va bene così. Allora, andiamo di qua, vediamo se questi qui sono vivi. Ok, facciamo così, scialli. Scialla, 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 la, 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 la. Scialla, la, 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 la. Mi si era buggato il testo buono spaziatrice! No, questa partita la lascio. Sta partita la lascio perché ogni volta, ragazzi, ogni volta, e solo per questo voglio un like, Marce deve fare una minichiata nella partita, soprattutto quella iniziale, va bene. Seconda partita di oggi, ragazzi, ci chiamano di non morire subito, per favore, per favore, per favore, per favore. Enderpearl! Sì! Sì, l'ho chiamata! E stavolta l'abbiamo trovata! Enderpearl, sei nostra! Ok, basta. 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 Io, ragazzi, mi muoverei andare da sto qua, tipo, proprio stealth, 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 sì, no. Ok. Prendiamoci la spada. Spada. Ok, cerchiamo di non cadere, ragazzi. Cerchiamo di non cadere. Bomber! Ah, è morto così. Lel. Cosa c'è qua? Uh, roba interessantissima qua. C'è la potion of strength, attenzione, colpo di scena. Credibile! Prendiamo tutto, prendiamo tutto, poi sistemiamo dopo. Ok. Mettiamo questo. Questo, questo. E non abbiamo il cappellino. Questo è meglio? No, projectile protection. Oh, 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 oh. L'ho ammazzato. Non so come l'ho ammazzato. Non so come l'ho ammazzato. Dobbiamo mettere via un po' di roba, intanto poi ci ritorno a su. Ok, ok. Prendiamoci la potion of strength che ho visto. L'ho vista che c'era, eccola qua. Enderpearl non ne aveva. Ci prendiamo il cappellino qui con protection 1. Questo qua stava tentando, eh. Stava tentando di ammazzarmi il bordello. Qui ce n'è uno. Io andrei da sto qua. Però siamo senza... Non si ammessi bene ragazzi quindi mangiamoci una bella mea d'oro Ok saliamo 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 questo qui dovrebbe venire su Non andava lo shift Non ci posso dire due partite su due cadute così non ci voglio credere Basta non gioco più non gioco più io a minecraft non gioco più perché prima si è colpa mia adesso non è colpa mia Non è colpa mia vediamo se questa terza partita riusciamo a vincere la perché con le prime due che abbiamo fatto Sono state veramente ma veramente ma veramente ma veramente Veramente scandalosi ok abbiamo detto l'abbiamo detto ok ok Like intro quello che volete Vediamo in questa cesta che cosa c'è vediamo se possiamo shopparci almeno un arc Un'arc voglio un'arc ma invece c'è l'arco c'è pure la cosa Però voglio una ender per la ragazzi voli members stavolta non voglio perderla scusatemi qua c'è qualcosa non mi ricordo se c'è la chest qua sopra si Vediamo se la troviamo qua sopra render per la render per la ok non c'è niente però aspetta Ci sono questi che io non ho che io non ho ma donna siamo così full siamo qui ci sono delle fecce però a bordello Bordello bordellissimo ok vediamo se riusciamo a beccargi a qualcuno guardano quelli che lo ammazziamo così di cattiveria Guardalo guardalo e no Guardalo e perché non riesco non riesco ad arrivare oh ma prima ci arrivava Cosa facciamo andiamo al centro andiamo al centro andiamo al centro senza magari cadere per favore non voglio cadere ok Ok qua forse no 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 bomberissimo 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 no non abbiamo un'arma invece sì ce l'abbiamo Io ragazzi questa me la mangio subito e sti cazzi perché se vado al centro ok andiamo all'ammazzare subito quello lì Guardate come lo ammazziamo guardate come lo ammazziamo che cacchio fai stai rompendo solo le ceste e basta dai che ammazziamo pure questo dai che lo ammazziamo pure questo Mamma mia siamo troppo forti siamo troppo forti Ci sono delle pozioni che mi potrebbero interessare ma non riesco a prenderle vero non riuscirò mai a prenderle Quindi bordello lasciamo qua Vedete perché perché scappano le pozioni quindi boh ciao ok ciao siamo io e il galaxy 5 Facciamo la finita subito per favore bomberissimo per favore dove sei Mi sembra di aver visto il suo nome qua sotto mi sembrava Non voglio dire una strunzeta però il suo nome era qua sotto Quindi adesso facciamo una cosa buona una cosa buona e giusta E si è chiuso Ma perché ti devi chiudere? Eh bomber Sta facendo esplodere tutto Si sta facendo esplodere Ah ho vinto l'ha vinto perché lui si è fatto esplodere Lui è un boss e si è fatto esplodere grandissimo grandissimo Oggi ragazzi siccome ne voglio vincere almeno sempre due su tre Le prime due sono state un pochino pochino avete capito insomma voglio fare una quarta partita E voglio vincerla voglio vincerla perché noi noi siamo fortissimi ragazzi siamo fortissimi senza shop Siamo fortissimi quando scioppiamo perdiamo sappiate 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 Oddio sto male Ok Qui non si è buggata l'illuminazione Oh iniziamo benissimo Iniziamo benissimo Non mi ricordo mai se si scende subito qui il primo Perché mi arrivano già frecce? Eh l'ell Eh l'ell Ok Ok Oh dai riusciamo a prendere tutto I stick Ok sono quasi full diamond e non mi dispiace sta cosa Noi abbiamo un'arma decente Non è vero scherzavo ce n'abbiamo un'arma decente Qua c'è qualcuno che è arrivato Vieni qua bomberissimo dove vuoi andare? Mamma mia che stupidino che sei Che stupidino che sei Volevi ammazzarmi ma invece sei venuto da Marci Eh si bomber Sciallo Dove vuoi andare? Dove vuoi andare? Dove vuoi andare? Cadi Boom Troppo forti ragazzi Troppo forti Ole Eh abbiamo già ammazzati due E ragazzi Siamo troppo forti Ok L'abbiamo detto Non abbiamo un arco però Quasi quasi un arco ce lo potremmo scioppare Se non che Se non che possiamo fare una cosa del genere Se non che possiamo fare una cosa del genere No 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 Però in due contro di me è bruttissimo ragazzi In due contro di me è veramente brutto Sono troppo forte Sono troppo forte ragazzi C'è niente da dire C'è niente da dire Troppo forti Troppo forti No ho buttato giù un arco Ok fa niente Adesso buttiamo giù tutto così Così questa ce la possiamo riprendere Ok Voglio l'arco Voglio l'arco Quello con infinità C'era l'arco Ok eccolo qua Eccolo qua ragazzi Guardalo subito lì Guardalo subito lì Guardali subito lì Guardali subito lì Guardali subito lì Guardali Ma perché va storto? Guardalo 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 un cazzo Guardalo Siamo io e lui un altro Perfetto L'altro dove è? Dove è l'altro? Dove è l'altro? Gli abbiamo fatti cuglia con i tuoi lì Però vorrei una Una mela d'oro Però non ce l'ho Non ho una mela d'oro Perché siamo senza cibo Siamo senza cibo Grande Bamba Allora sei contento? Ti senti felice? Ti senti realizzato? Bomberissimo? Ti senti veramente contento di te? Di te stesso? Non possiamo fare team Perché tu mi hai quasi ammazzato Guarda Oh 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 Mi sa che ci conviene di salire ragazzi Tu hai provato ad ammazzarmi E poi mi chiedi di far team Io queste cose non le sopporto Non le sopporto veramente proprio Dove vuoi andare adesso? Io mi sto facendo la mia tecnichina Tecnichina si può dire Guarda come va di là Guardalo come va di là Vediamo se gli arrivano qua le palle di neve Dai prova 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 Non ci arrivi Bomber Non ci arrivi Bomber Adesso arrivo ad ammazzarti Lo sai che arriverà ad ammazzarti Lo sai anche te Comunque adesso lo shift va Prima era tutta una stronzata Che sicuramente non andava E adesso? E adesso? Sei sbagliato Bomber Sei sbagliato a venire contro di me Hai proprio sbagliato Hai proprio sbagliato Perché ora? Ora io shopperò sappilo Sappi che tu morirai per là E vabbè E vabbè ragazzi Stavolta mi ha unato lui E dai ci stava Ci stava è stato veramente bravo È stato bravo perché comunque si è giocata bene con la pozione Ditemi secondo voi come avrei potuto ad ammazzarlo Perché non mi sembrava di avere pozioni nell'inventario Che mi avrebbero potuto Togliere appunto l'avvelenamento Comunque ragazzi direi che per questo episodio è tutto Fatemi sapere con tutte le cose che vi ho piaciuto nel video La domanda e mi raccomando Andate a vedere l'epietro della VHC che è uscito alle 2 Ci vediamo in un prossimo video Bella